Un'evasione da quasi un milione di euro è stata scovata dalle fiamme gialle di Sarzana nell'ambito della lotta al gioco illegale con slot machine e videolotteri. I finanzieri hanno scoperto una società operante in totale evasione d'imposta e che si occupa della gestione degli apparecchi a moneta con vincite in denaro, slot, videopoker e quant'altro. La società è stata individuata grazie alle indagini rivolte a chi ha esercitato attività di impresa senza presentare dichiarazioni fiscali. E così da una verifica fiscale gli uomini delle fiamme gialle hanno scoperto che la società all'interno dei propri locali metteva a disposizione dei clienti un rilevante numero di macchinette con un flusso di giocate milionario. Solo nel periodo compreso tra il 2011 e il 2014 è stato accertato un volume di gioco dai 6 ai 10 milioni di euro all'anno. Su tali somme la società avrebbe dovuto pagare le relative imposte dirette. incassati 900 mila euro senza alcuna dichiarazione al fisco, di fatto un vero evasore totale. L'amministratore della società è stato denunciato alla Procura della Repubblica della Spezia per omessa dichiarazione rischia sanzioni per oltre 200 mila euro. richiesto inoltre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.